e questo pomeriggio ragioneremo. Allora, se raggiunge il Poi, eccolo qui. Ben trovato. Prego. Grazie, buongiorno a tutti e ben trovati. Naturalmente grazie per l'invito. Chiedo se effettivamente posso essere aiutato da alcune slide. Ho portato evidentemente, come deve fare l'Istat, dei numeri. Ho portato degli elementi di scenario, ho portato ciò che ci possa far capire in che contesto ci troviamo. Magari ripetendo alcuni dei dati che abbiamo sentito tante volte. Ma proprio per aiutare la lettura della complessa macchina pubblica in cui ci troviamo è per aiutare una lettura supportata da dati, supportata da ciò che la statistica ufficiale, quindi non solo l'Istat, ma tutto il sistema statistico nazionale, porta e contribuisce alla conoscenza del Paese. Perché l'Istat non solo produce, raccoglie dati direttamente, ma anche fa da hub a tutti i soggetti del Sistan, il cosiddetto sistema statistico nazionale, a cui appartengono tutte le pubbliche amministrazioni con i loro uffici di statistica, ma anche tanti soggetti del privato. Detto questo, cercherò di portare qualche focus, lasciando poi anche della documentazione a disposizione di tutti i partecipanti e dei relatori, perché ci si possa poi ritrovare anche successivamente. Certo, noi abbiamo un tema che mi piace mettere subito all'inizio, legato alla questione dell'attrattività della pubblica amministrazione in questo momento. Certamente c'è un tema di salari, c'è un tema di modernizzazione, però ci sono anche dei dati, ho ripreso l'ultimo rapporto di Formez-PA, che ha analizzato i bandi e il numero di partecipanti alle selezioni e ai concorsi pubblici. Ci sono numeri, io credo, francamente impressionanti. Certo, siamo in una circostanza particolare, questa del contesto PNRR, se cui naturalmente si entrerà successivamente, però i numeri che si vedono rispetto alle partecipazioni, alle candidature, due milioni di candidature, 265 mila candidati a più concorsi, il tema poi è effettivamente quanti poi diventano dipendenti della pubblica amministrazione e poi quanti sono soddisfatti di esserlo e quanti poi contribuiscono ancora con la loro professionalità o con il loro portato. Anch'io in queste ore, in questi giorni, sto accogliendo nuovi assunti all'Istat e tanti vengono da 15-20 anni di esperienza professionale anche nel mondo privato. Il punto è come le nostre pubbliche amministrazioni saranno in grado di accoglierli e di renderli il prima possibile, tra virgolette, produttivi. Ma i temi che noi abbiamo davanti sono naturalmente quelli noti, i temi dell'informatizzazione e gli interventi che non sono partiti oggi. Da lontano vengono le riforme o i tentativi di riforma. Basta solo vedere le date di alcune leggi di riforma. E, da questo punto di vista, che cosa è successo, cosa può essere successo con la pandemia. Io mi sono tanto interrogato e con tanti altri relatori di oggi ci siamo più di una volta confrontati su che cosa ha significato e cosa può aver significato il Covid, la pandemia per la pubblica amministrazione. E ho ripreso questa immagine che ho usato anche a Forum Pia l'anno scorso, che è l'immagine di una fotografa ucraina, tra l'altro, a cui ho chiesto di poter utilizzare questa immagine, che credo rappresenti bene il tema del punto di non ritorno. Cioè, quello che ha vissuto la pubblica amministrazione in questo anno, in questi due anni, è qualcosa da cui probabilmente non possiamo più tornare indietro. Certo, però, io dico, noi abbiamo vissuto una riforma prima che fosse stata scritta. È oggettivo che il Covid ci ha costretto a qualcosa a cui nemmeno potevamo pensare in termini di accelerazione anche di alcune riforme. E naturalmente mi riferisco agli aspetti legati alla digitalizzazione nostra, delle nostre infrastrutture, ma su questo naturalmente si tornerà in seguito durante la giornata. Quindi gli interventi che durante la pandemia sono entrati sono interventi e tentativi di trasformazione che hanno lavorato sia sulla continuità dell'azione amministrativa, sia su alcune misure urgenti a sostegno di cittadini e imprese, sia su nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Evidentemente tutto il tema lavoro agile o smart working, come lo chiamiamo in Italia, che era un tema, vedremo, solo accennato, solo sfiorato, nella nostra pubblica amministrazione prima della pandemia. In sostanza la pandemia ha messo, io credo, in evidenza debolezze del sistema pubblico, ma ha fatto emergere una propensione al cambiamento. E in questo senso, credo, il PNRR e gli obiettivi che ha dato il PNRR proprio alla pubblica amministrazione entrano in questo filone. E in quest'ottica, io credo, dobbiamo leggerli, se vogliamo leggere degli aspetti positivi anche della pandemia. Vado rapidamente a qualche numero, solo qualche flash, per farvi capire che poi tutti questi nostri dati sono rinvenibili sul nostro sito, ma ho preso qualche elemento che certamente è ripreso anche nella documentazione, che alcuni di noi ovviamente conoscono a memoria. Una nostra grande fonte è il censimento permanente delle istituzioni pubbliche, che è una, diciamo, la nostra indagine più importante e che è un censimento vero e proprio e che riguarda tutte le istituzioni pubbliche. In questo momento abbiamo a disposizione il report dell'andamento 2021 e quindi abbiamo una fotografia importante di una PIA pre-pandemia e di una PIA che si stava comunque evolvendo. Rinvio naturalmente quindi a tutto il nostro report pubblicato sul nostro sito. prendo qualche focus. Certamente noi nel nostro censimento troviamo il tema dei numeri puri, struttura e dimensioni delle pubbliche amministrazioni, i totali, ma anche per ogni istituzione, le unità locali e quindi una vista territoriale. Certamente cerchiamo e possiamo capire la struttura e le dimensioni delle nostre pubbliche amministrazioni. E anche qua noi parliamo di numero di unità istituzionali aumentato del 4,9 per vari motivi, del 4,9%, e però il numero di unità locali, quindi di luoghi fisici, diminuito di oltre 5.800 unità. Probabilmente unione di comuni, politiche di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. Ecco che ritroviamo questo aspetto strutturale. Come possiamo esaminare e individuare le differenze e la presenza di personale per genere? Non solo generale, ma anche nei vertici. E anche qui possiamo osservare un numero nel periodo 2011-2020 complessivo dei dipendenti dell'APA aumentato, ma con un forte aumento dei tempi determinati. E qua eravamo ancora in pieno, come dire, inverno dal punto di vista del reclutamento, e con tutte le tematiche della spending review. Ancora, appunto, dicevo, la presenza femminile al vertice delle nostre amministrazioni, che anche in questo caso presenta dei dati comunque interessanti. Ancora, proprio sul vertice, al vertice delle istituzioni, vedete naturalmente donne occupate nella pubblica amministrazione più del quasi 60%, 58,5% del personale in servizio, con più elevate presenza negli enti del sistema nazionale. Ancora questo, il dato che confronta le varie amministrazioni con le donne al vertice. Qualche flash su i numeri dello smart working prima della pandemia. 3,6% delle istituzioni pubbliche avevano adottato iniziative di smart working in fase pre-pandemica. Eppure la norma c'era e c'era già da un po', però c'era una grande resistenza. I ministeri e le agenzie dello Stato però presentavano e presentano, vedete il grafico, una sensibilità maggiore, molto maggiore rispetto ad altri soggetti, comuni al di sotto di 20.000 abitanti, i meno orientati alla sperimentazione dello smart working. Ancora la diffusione dello smart working, istituzioni pubbliche che hanno sperimentato prima della pandemia e che prevedono di adottarlo in modo strutturato per forma giuridica e qua c'è già un effetto della pandemia stessa perché al termine della fase emergenziale più del 20% delle istituzioni pubbliche prevedeva l'introduzione strutturale del lavoro agile dentro la propria organizzazione. Ancora come le pubbliche amministrazioni hanno monitorato l'impatto del lavoro agile e anche in questo caso una minoranza importante di amministrazioni in particolare tra quelle più grandi ha monitorato l'impatto del lavoro agile sulla produttività, sulla soddisfazione del benessere dei lavoratori e sui servizi erogati. Questo grafico si ritrova tra l'altro nel nostro rapporto annuale che nel mese di luglio scorso è stato presentato al Parlamento. Vado rapidamente a concludere ancora recuperando alcuni dati dell'osservatorio del Politecnico di Milano con il quale collaboriamo e che ci mostra che cosa hanno dichiarato le pubbliche amministrazioni intervistate circa l'osservazione dello smart working come opportunità per migliorare la conciliazione vita privata e professionale per il 55% degli enti per il 35% che vuole migliorare il benessere organizzativo e la soddisfazione delle persone e il 23% che intende diffondere una cultura orientata al raggiungimento dei risultati rapidamente sull'impatto sulle investimenti e sulle infrastrutture troppo poche io credo amministrazioni hanno effettuato almeno una tipologia di investimento o tecnologico infrastrutturale o in comunicazione o in cultura digitale o in tecnologie avanzate addirittura pochissime hanno fatto investimenti su tutte e quattro le tipologie vado quindi a chiudere lasciando come ulteriori dati quelli relativi agli investimenti in digitalizzazione e quindi su questo potrete tranquillamente ritrovare successivamente io dico come conclusione che ciò che noi dobbiamo avere presente in qualunque focus e comunque io credo emerga anche fortemente dai nostri dati è che ogni elemento di innovazione ogni elemento di trasformazione passa dall'osservazione e dal rimettere al centro le persone questo vale sia per l'attenzione al personale sia al management dico spesso e con Antonio Naddeo l'abbiamo detto tante volte nella commissione sul lavoro agile il tema è la dirigenza il tema è come si prepara la dirigenza alle sfide e senza dimenticare mai il tema dell'utenza della pubblica amministrazione e di quanto anche certi impatti di nuovi modelli organizzativi hanno a cuore questa persona che è non solo un partecipante attivo dell'amministrazione ma molto spesso e sempre è un utente dei nostri servizi vi ringrazio grazie grazie al direttore generale di Istat grazie a tutti